E quest'anno che anno sarà, mister Umberto Vezzosi? Buonasera a tutti, l'anno scorso è stata veramente un'annata positiva, al di là dei risultati è andata oltre tutte le aspettative. Quest'anno siamo cresciuti come società, sono arrivati degli allenatori importanti, è arrivato un nuovo preparatore, abbiamo acquisito il Palasport Estra, anche se purtroppo quello è successo o non è successo, ma tra poco lo riavremo. Abbiamo fatto richiesta di partecipare a tutti i campionati di eccellenza, ma fare anche seconde squadre per dare possibilità a tutti di giocare. Quindi, diciamo che sarà ancora un anno, speriamo, di crescita e di miglioramento per i ragazzi, anche per noi e speriamo anche di soddisfazioni attraverso i risultati. Arezzo come ha risposto a questa da sollecitata da questa nuova società? Ma Arezzo ha risposto bene, Arezzo dal punto di vista del basket è una provincia a grande potenzialità e ha anche grande tradizione soprattutto nel Val d'Arno. In Arezzo, Arezzo diciamo adesso stiamo veramente spingendo per diventare la società trainante dell'Aretino, ma anche per affermarci come realtà importante a livello regionale. Tre giocatori dell'anno scorso, allenati qui, Terzillo, Izzo e Mordini, hanno avuto grandi richieste. L'anno prima era stata il voto di Zannini, quindi i ragazzi devono capire che qui si cerca di farli crescere, ma poi non gli si tarpa le ali se ci sono delle realtà importanti dove possano andare.